Questa mattina con molto orgoglio, devo dire, si inaugura questo parcheggio con un'area di playground, un campo di basket e di calcetto a Tigo e alla scuola di via Salso. È un problema che si trascinava oramai da 10-15 anni, un fatto che sostanzialmente ci portava come una sorta di paese incivile rispetto al fatto che non è possibile immaginare che i genitori possono accompagnare i propri figli e lasciare la macchina in una via trafficatissima, soprattutto di mezzi pesanti come la via Salso. Quindi sin da subito il mio insediamento ci siamo insediati e abbiamo provato a immaginare di realizzare in un'area privata comunque questo parcheggio. Quindi abbiamo dovuto espropriare l'area privata e abbiamo dovuto fare il progetto. Abbiamo fatto un progetto e abbiamo fatto una variante al progetto perché oltre al parcheggio abbiamo immaginato di dare anche uno spazio attrezzato, un playground alla scuola. Quindi oggi si concretizza e siamo veramente orgogliosi perché la macchina amministrativa nonostante le difficoltà, i mille problemi che tutti i comuni scondono oramai visto i tagli di trasferimento nazionale e regionale, siamo riusciti a completare e dare ai cittadini e alla scuola un parcheggio civile e funzionante. C'è stato un lavoro di commissione dove ci siamo riuniti tutti i consiglieri di maggioranza e anche opposizione e voglio dire che si è raggiunto l'obiettivo importante che finalmente era da tempo che si doveva realizzare questa struttura. Siamo sempre in fase di migliorare il paese per il bene della collettività.